ragazzi per iniziare vi voglio dire che questo video è completamente reale e non scrivete nei commenti cosa non volete tutto è ben inizio in un bel pomeriggio quando ero tirolata a casa da scuola sono deciso di mettere a creare erobrine perché tutti i miei compagni ci parlavano come detto una piccola siluetta erobrine occhi bianchi del solito stile ma dopo che ho cambiato sono andato a giocare su dove gli ho trovato sta siluetta messa in pratica come vero stava camminando una cosa che mi ha fatto riempire di più è il suo stile ero identico al mio solo che aveva gli occhi bianchi dopo tutto questo vado anche nel portale dell'end perché dopo io sono scappato ovviamente perché mi sono spaventata non è importante e come potete vedere le immagini l'ho trovato in luogo grazie se sapete di più mettete mi piace un commento in iscrizione e se ne sapete di più commentate se volete un mi piace